Buongiorno a tutti, io sono Antonio D'Ambrosio e ringrazio innanzitutto Paola Italia e Margherita De Blasi per questo graditissimo invito, di cui approfitto per raccontarvi la storia di un testo che proprio questo mese compie 65 anni dalla sua Edizio Princeps e che per un romano come me è un testo di fondamentale importanza. Sto parlando di Ragazzi di Vita di Pierpaolo Pasolini che esce appunto nel maggio del 1955 per le edizioni Garzanti. Il successo che ottiene è colossale, tanto che la prima edizione si esaurisce in sole due settimane. Silvia De Laude che insieme a Valterziti ha curato l'opera di Pasolini nei Meridiani Mondadori, due anni fa ha pubblicato una sinossi della complessa storia testuale di Ragazzi di Vita intitolandola significativamente i due Pasolini. Ecco, cerchiamo allora di capire perché i Pasolini sono due. La storia di Ragazzi di Vita è strettamente legata alla vicenda biografica dell'autore. Nel 1950 Pasolini lascia l'amato Friuli insieme alla madre dopo i ben noti fatti del Ramuscello e si trasferisce a Roma portando con sé nella valigia un gran numero di manoscritti. Proprio nella capitale riprende in mano quei romanzi lasciati incompiuti complicando appunto la struttura narrativa di questi organismi narrativi che poi sarebbero diventati Atti impuri, Amado mio e Il sogno di una cosa. Anche Ragazzi di Vita ha, come dire, le sue radici in materiali friulani. L'Incunabolo è infatti un racconto che in una redazione non definitiva, conservata presso il fondo Pasolini dell'archivio contemporaneo Alessandro Bonsanti del gabinetto di Firenze ha titolo Il dolce Boy Scout che venne poi pubblicato sul quotidiano nel 1950 con il titolo La rondinella del Packer. Grazie poi alla mediazione dell'amico Attilio Bertolucci Pasolini pubblica nuovamente questo pezzo nel giugno del 1951 sulla rivista Paragone con il titolo Il ferro Bedò dal nome del deposito della ferro beton a Monteverde Vecchio. Ecco questo rappresenta appunto l'urtext del romanzo del 1955 che è sopravvissuto in due stessure conservate appunto nel fondo Pasolini in una cartella con una intestazione autografa che recita Il ferro bedò e tra parentesi aggiunge e altri romanzi e racconti passati in parte a ragazzi di vita e Pasolini specifica anche l'arco cronologico 1950-1951. Ora all'interno di questa cartella oltre a le due stessure troviamo però anche diversi materiali per esempio indici, appunti vari, foglietti sparsi, anche dattiloscritti di testi che poi sarebbero stati pubblicati autonomamente come racconti in vari periodici e c'è anche poi un glossarietto di termini romaneschi. Ora a questa altezza Pasolini ha in mente qualcosa che si possa avvicinare a un romanzo ma ancora diciamo dei contorni sfumati. Questo romanzo al momento assume la forma di un trittico che risulta costituito ovviamente da tre parti che sono Il ferro bedò, Libelli Pischelli e Terracina. Il ferro bedò appunto l'abbiamo già visto, poi c'è Libelli Pischelli che diciamo è la parte più narrativa in cui Pasolini descrive gli espedienti che utilizzano appunto per per sopravvivere due ragazzi di vita che si chiamano Luciano e Marcello e con l'eliminazione poi di alcune parti questo sarà poi il secondo capitolo di ragazzi di vita. Poi c'è Terracina che prospetta diciamo un finale tragico a tutta la vicenda e benché si configuri proprio da un punto di vista della qualità narrativa come il pezzo migliore ecco che diciamo sarà l'unica parte ad essere abbandonata definitivamente. Da un piano di lavoro del 1952 risulta che una volta crollato tutto il progetto del trittico Pasolini volesse inserire Terracina all'interno di un'altra raccolta, Le notti calde, insieme ad altri due pezzi cioè La recherche sacilese e Primavera sul Po che facevano parte di un'operetta marina che a sua volta derivava da un più grande e ambizioso romanzo del mare a cui Pasolini lavorava già dal 1951 molto probabilmente sulla base di materiali firulani. Il progetto però sfortunatamente non va in porto e di Terracina verranno pubblicati solamente degli stralci rielaborati nella seconda metà del 1951 dopo la partecipazione di Pasolini al premio Taranto che diciamo ammetteva racconti che avevano come protagonista il mare e che ovviamente Pasolini non vince però gli valse la segnalazione da parte della giuria. Per esempio Ungaretti anche lui romano adottato apprezzò moltissimo le doti di Pasolini narratore perché in lui dice Ungaretti sentiva la voce del Belli. Ora come Gadda quindi a questa altezza cronologica Pasolini lavora dice Silvia De Laude spostando lunghi blocchi narrativi da un progetto all'altro oppure li estrapola rendendoli autosufficienti per poi tornare magari sui propri passi. Quindi abbiamo detto viene meno il progetto del trittico e Pasolini inizia a progettare tutta una serie di indici di scalette varie alcuni alcune delle quali tendono di più alla organicità della narrazione quindi ci sono per esempio stessi personaggi delle vicende che si interrompono a un certo punto e vengono poi riprese in una seconda scena e così via. Altri indici, altre scalette invece tendono a un carattere narrativo più disorganico. Diverse prove di indici si trovano invece conservate nella cartella cartaccia romana che raccoglie anche dei materiali che poi confluiranno in un altro libro di Pasolini, Alida Agli Occhi Azzurri e ci sono poi tutta una serie di avantesti che poi diciamo confluiranno nei capitoli finali di Ragazzi di Vita cioè Dentro Roma, Il bagno sulla Niene e La comare secca. Ragazzi di Vita per come insomma lo conosciamo noi nasce tra il 52 e il 53 quando Pasolini inizia diciamo una vita più stabile. Nel dicembre del 1952 scrive all'amica Silvana Mauri dicendo di aver quasi finito il romanzo che però ha bisogno solamente di poche correzioni e rifiniture. L'interesse di Pasolini al momento si concentra soprattutto sul Ferro Bedò. L'anno successivo nell'ottobre esce su Paragone un nuovo pezzo del romanzo intitolato Ragazzi di Vita e che sarà poi il quarto capitolo dell'edizione definitiva. Nel frattempo poi Pasolini si era accordato con la direttrice di Paragone Anna Banti per pubblicare il romanzo nella collana della rivista una volta che questo fosse stato completato. Però avviene un evento imprevisto perché nel 54 grazie di nuovo ad Attilio Bertolucci Pasolini conosce Livio Garzanti il quale nel frattempo aveva ereditato la casa editrice del padre Aldo e come dire aveva modificato la sua politica editoriale improntandola al fatturato e alla trasgressività. Garzanti quindi si interessa subito al romanzo di Pasolini e decide di pubblicarlo. Anche Pasolini ovviamente è entusiasta dell'idea e per non dar dispiacere ad Anna Banti le promette poi il volume di Poesie Friulane che uscirà col titolo La Meglio Gioventù. In una prima lettera inviata a Garzanti il 6 novembre del 54 Pasolini gli manda Ragazzi di Vita promettendogli anche un lungo racconto intitolato Le Zoccolette del Mandrione però l'editore è rimovibile vuole assolutamente il ferro bedò. Pasolini allora in una lettera sempre del novembre del 54 molto lunga e anche molto bella presenta diciamo tutta la struttura che dovrà avere il romanzo e spiega anche a che punto è effettivamente prevede nove capitoli tre dei quali sono già pronti quattro da finire e gli altri due sono ancora da scrivere ex novo e la risposta che gli dà Garzanti purtroppo è andata perduta ma dalla missiva successiva di Pasolini della fine di novembre riusciamo a dedurre che Garzanti gli avesse dato dei consigli circa la come dire la struttura generale che doveva avere il libro e anche e soprattutto sull'uso linguistico. Ora di questo futuro romanzo esistono due redazioni conservate entrambe presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma e sono la redazione A e B la redazione A è quella più tormentata piena di correzioni e annotazioni a margine e proprio però in questa prima redazione in apertura noi abbiamo due frontespizi abbiamo un manoscritto Ragazzi di Vita che sostituisce un precedente il ferro Bedò e quindi è proprio a questo punto che il romanzo Ragazzi di Vita prende forma e in questo momento Pasolini diciamo deve cucire come un sarto i vari pezzi che ha scritto fino ad ora per renderli narrativamente coerenti per questo diciamo ci lavora molto ovviamente per inviare il testo a Garzanti il materiale andava riscritto per cui B risulta essere la copia impulito di A di cui sostanzialmente risolve poi tutti i punti lasciati in sospeso B quindi è con ogni probabilità la diciamo la versione che Pasolini invia a Garzanti come si può evincere diciamo confrontando appunto B con il testo a stampa e dalla descrizione che Pasolini fa del dattilo scritto nella lettera di accompagnamento del 13 aprile del 55 il 9 maggio iniziano però per Pasolini i guai perché come scrive a Vittorio Sereni si trova alle prese da vari giorni, cito dalla lettera, con bozze mezze morte da correggere e da castrare perché l'editore proprio in quel momento si era fatto prendere, cito di nuovo, da scrupoli moralistici e quindi gli ha imposto la revisione del testo che vuol dire revisione del testo? ecco Silvia De Laudi identifica quattro tipologie di intervento sul testo che sono censura linguistica, attenuazione degli episodi più spinti, sfrondamenti e ritocchi strutturali quindi il romanzo che viene fuori è sicuramente un romanzo meno sporco da un punto di vista linguistico meno espressionista se vogliamo e che diciamo ha al suo interno una maggiore coerenza narrativa una volta uscito in libreria Ragazzi di Vita riceve sia stroncature memorabile per esempio quella di Cecchi sul Corriere della Sera oppure anche quella di Carlo Salinari ma anche diciamo recensioni entusiaste come per esempio quella di Giancarlo Vigorelli oppure di Gianfranco Contini ovviamente ma anche di De Robertis e addirittura Carlo Bo e Giuseppe Ungaretti propongono il romanzo al premio strega Pasolini arriva in cinquina però deve accontentarsi purtroppo del quarto posto ma però possiamo dire ha anche una grande soddisfazione perché vince il premio Colombi Guidotti di Parma a dicembre il libro è segnalato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il suo carattere usceno e subirà un processo che fortunatamente però si concluderà il 4 luglio del 56 con l'assoluzione sia di scrittore che editore perché il fatto non costituiva alcun reato Pasolini nel tentativo di cercare insomma più testimoni possibile aveva scritto a numerosi amici soprattutto quelli che avevano recensito positivamente il suo romanzo ma tutti con una scusa o con un'altra si rifiuteranno di partecipare al processo solamente due di questi oltre a Pietro Bianchi consulente letterario della Garzanti parteciperanno appunto al processo uno è Carlo Bo e l'altro Giuseppe Ungaretti che a causa della malattia della moglie non potrà essere fisicamente presente però manda ai giudici una lunga e bellissima lettera in cui riconosce la validità di Pasolini di Pasolini scrittore e in particolare in particolare dice per Paolo Pasolini è lo scrittore più dotato che oggi possediamo in Italia ogni sua attività romanzo, critica, erudizione, poesia è prova di un impegno estremamente serio ed offre risultati che onorerebbero chiunque e per ringraziarli a loro Pasolini dedicherà il successivo romanzo del 59 Una vita violenta appunto a Carlo Bo e Giuseppe Ungaretti miei testimoni nel processo contro ragazzi di vita